Domenica pomeriggio alle 16 saremo a Piazza Salotto nei pressi della mattonella dedicata a Jennifer, che questo comune ha dedicato a Jennifer. In Flash Mob non riveliamo i particolari perché sarà una sorpresa, ma quest'anno il Dipartimento, aderendo alle celebrazioni del 25 novembre per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha lanciato una campagna contro la violenza in genere, tant'è che nel nostro manifesto c'è il logo della famiglia, perché comunque noi siamo convinti, e anche la sociologia ce lo dice, che la violenza nasce dal fatto che ci sono dei legami familiari malati e quindi è proprio da lì che dobbiamo ripartire per restaurare il giusto equilibrio tra l'uomo e la donna, tra l'uomo e la donna e i figli, perché quando si fa violenza a una donna, non si fa violenza solo a quella donna, ma quella donna magari ha dei genitori, ha dei figli e quindi è tutto il nucleo familiare che secondo noi subisce un grave danno. E anche per quanto riguarda gli uomini, vero è che l'emergenza è la violenza sulle donne, però sappiamo che anche molti uomini sono vittime di violenza e sappiamo che la violenza è anche contro i più deboli, anche contro i bambini e vogliamo anche che ci sia un intervento proprio per gli uomini, perché nel momento in cui un uomo ha questa difficoltà ad accettare un rifiuto, ad accettare un no, o che una relazione sementale finisce, è là che dobbiamo agire.